E voi che dite? Voi che dite? No, 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 io sento il sapore solo nel guardare. E dite che cos'è? Ragazzi, è un babà, ma è un babà non della regina Margherita, la Polonia, no, è un babà passato dall'Europa a Napoli. Oggi, 2013, Rossella, concerto del gusto, ti ha fatto un babà altissimo, altissimo, sentite le motociclette che stanno arrivando, sta arrivando un sacco di gente per mangiarla. È fantastico, questo lo possiamo dire veramente, che è un grande concerto del gusto, babà, ma ci possiamo dire anche un babà, ma diciamo concerto del gusto.